Allora, giornata d'incontro con la UIL Scuola al Museo della Pace con docenti e studenti. Liceo Galilei, Napoli, Stato Meno per Corso Europa, un'ottima iniziativa. Idem, cioè ci è piaciuto molto, è fuoriero di tante conoscenze, ma soprattutto secondo me il centro vero di legalità, che vuol dire tante cose. Liceo Galilei, Isis Vittorio Veneto, Napoli. Lo stesso istituto è veramente entusiasmante come iniziativa. Noemi Ranieri, UIL Scuola Nazionale, un'occasione da sviluppare in termini di collaborazione, in termini di diffusione, in termini di coinvolgimento, perché la passione non deve mancare mai agli insegnanti. Allora, Isis Vittorio Veneto di Napoli, è un'emozione senza fine stare qua oggi. Isis Vittorio Veneto di Napoli, un luogo meraviglioso, uno scrigno di cultura da, come dire, per la quale avvicinare i ragazzi dei nostri istituti. Liceo Scientifico di Poggio Marino, Leonardo Vinci. Il percorso è stato molto, molto emozionante per noi, speriamo di trasmetterlo anche ai ragazzi. Io sono gentile ospite, però devo dire che ho passato una giornata veramente meravigliosa. Ringrazio, la ringrazio sentitamente perché Napoli è veramente qui e si ha la sensazione di essere al centro del mondo, al centro della cultura. Grazie ancora. Emilio De Lorenzo, Istituto Comprensipo 76, Siamo Mastriani. Un viaggio emozionale nella grande cultura del Mediterraneo, il mare nostro, il mare di tutti noi. Sono Patricia Tozzi, vengo da una scuola secondaria di primo grado, ho sempre amato il Mediterraneo, ho fatto un progetto bellissimo insieme alle colleghe sul Mediterraneo che lascerò in regalo all'istituto e mi sono emozionata veramente. Liceo Gian Battista Vico di Napoli, è originale ed emozionale direi.